Ed ora la cronaca, sala operatoria e laboratorio di analisi abusivi e condizioni igienico-sanitarie precarie all'interno di una clinica veterinaria di Alto Pascio. Con queste accuse è stato denunciato il proprietario del laboratorio in seguito ad un'ispezione dei NAS di Livorno e del nucleo radiomobile di Lucca. L'uomo avrebbe attivato il laboratorio e la sala operatoria all'interno della sua clinica senza la necessaria autorizzazione. Sono stati rinvenuti nel laboratorio anche macchinari e attrezzature arrugginiti e sporco sulla parete anche con la presenza di materiale ematico. È risultato inoltre che l'uomo avesse omesso di effettuare la registrazione di rifiuti speciali e che fosse in possesso di quattro farmaci a contenuto stupefacente non dichiarati.